Ma Giorgia Meloni sta copiando Ellie Schlein? Voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché sì, spesso non ti vedono arrivare. Anche stavolta non ci hanno viste arrivare. Non ci hanno viste arrivare perché sì, spesso non ti vedono arrivare. Qui c'è una citazione letteraria che per prima ha utilizzato Ellie Schlein quando è stata proclamata segretaria del Partito Democratico e oggi Giorgia Meloni riprende esattamente quella citazione. Che cosa non va in questo passaggio? Non va dal mio punto di vista la mancanza di originalità, il tentativo di presidiare un tema con la stessa identica citazione che ha utilizzato la principale esponente della coalizione a lei avversa, come avrebbe detto qualche tempo fa Walter Veltroni, cioè Ellie Schlein in questo momento. Quando presidiamo dei temi siamo in grado di trovare dei contenuti che possano distinguersi. Nel marketing si parla spesso di una nozione che è unique selling proposition, cioè proposizione unica che riguarda, nel caso del marketing, la vendita. Quando parliamo di politica parliamo anche di marketing politico molto spesso. E servono delle frasi identificative, pensate al meno tasse per tutti di Silvio Berlusconi, che è una caratteristica distintiva del suo messaggio. Bene, qui, dal mio punto di vista, Giorgia Meloni non è stata in grado di identificare una modalità alternativa per esprimere un concetto simile, sebbene poi con una premessa un po' diversa da quella di Ellie Schlein. E dal mio punto di vista non è nemmeno la prima volta. Guardate questa foto. In questa foto c'è Francesca Fagnani con il suo quaderno di belve. Nel 2022 Francesca Fagnani è diventata famosissima proprio attraverso questo programma televisivo. L'idea è diventata famosa anche per questo oggetto, il suo quaderno degli appunti, di cui tutti hanno cominciato a parlare nel corso dei mesi. Bene, che cosa abbiamo visto spuntare negli ultimi mesi nelle produzioni di Giorgia Meloni? Il quaderno degli appunti di Giorgia. Ed eccoci quindi ritornati al tema precedente, cioè presidiare le modalità di comunicazione è una cosa importante e deve essere anche innovativa. Il punto è che le cose, le persone, le notano. Il quaderno degli appunti è una cosa che è diventata molto in voga dopo che è diventata virale la trasmissione belve di Francesca Fagnani. La frase sul non ci hanno visto arrivare è diventata molto in voga dopo che l'ha detta Elish Line. Che senso ha, da un punto di vista dell'efficacia comunicativa, replicare delle cose che esistono già nella comunicazione e che le persone conoscono già come esistenti nella comunicazione pubblica? Ecco allora che, tornando alla domanda di prima, Giorgia Meloni ha copiato Elish Line e una risposta non ce l'ho. Di sicuro quello che sto vedendo non mi appare particolarmente brillante e originale. Sarebbe importante che la comunicazione politica tornasse ad avere dei salti di creatività dove un politico, ce lo ricordiamo perché ha inventato comunicativamente qualcosa senza averlo forse, come posso dire, assorbito o respirato nel contesto e nella comunicazione generale di tutti i giorni.